La Valtellina sta cullando un sogno mondiale e sarà l'Adda, il teatro delle sfide iridate. Il fiume, con le sue rapide, ha visto sfilare in questi anni i più forti atleti degli sport fluviali, campioni che hanno fatto incette di trofei all'oro in Italia e nel mondo. Nel 2020, causa pandemia, non è stato possibile disputare gli europei di rafting, ma la notizia di queste ore è che la Valtellina ha deciso di puntare ancora più in alto, come ci ha spiegato Benetto Del Zoppo, presidente della Federazione Italiana Rafting e dell'Indomita, storica società con sede a Castione e a De Venno. Lui l'ospite della trasmissione in campo Una Valle di Sport in onda stasera su Unica Sondrio alle 19.45 e martedì alle 12.20. Ecco un'anticipazione. Sono tornato alla carica e direi ottime possibilità di ottenere i mondiali 2023 e sarebbe un gran successo per la Valtellina e anche per noi come Indomita sicuramente. Anche perché l'Indomita, ricordiamo, non è nuova a competizioni di livello mondiale. Sì, ormai ti ricorderai con la Canoa abbiamo fatto tutto quello che si poteva organizzare, quindi dagli europei, Coppa del Mondo e col 2014 abbiamo concluso con i mondiali, che penso che tanti a Sondrio si ricordino ancora dalla manifestazione. Quindi vorrei portare ancora qualcosa di importante. I mondiali di rafting sono sicuramente un grande evento che potrà muovere molte persone, quindi si parla di numeri sopra i 500, quindi per 10 giorni è sempre, comunque turismo. Quindi state coltivando questo sogno e ovviamente la marcia d'avvicinamento proseguirà con gli step necessari, comunque la linea è tracciata. Sì, la linea è tracciata, avremo bisogno di alcune infrastrutture, però queste poi serviranno anche per l'attività normale, quindi sicuramente è un'opportunità per tutta la Valtellina.